poi per quello che ho visto questo per quanto riguarda i zombie è un po la società che si è creata ma anche il discorso degli umani di quelli che sopravvivono una scena molto veloce si vede a un certo punto c'è una macchina ferma con una ragazza giovane molto giovane una ragazzetta 15 16 anni grosso modo e una mamma una mamma che tira fuori loro si avvicinano questa tira fuori la pistola una pistola di quelle tipo tedesche non so dove la rimediata molto strana per l'ambiente e loro tirano dritto perché non vogliono rischiare c'è poi ripassano una strada vicino e vedono la stessa macchina dicono ma quella è la stessa macchina che abbiamo visto prima di sì però c'è altra gente a bordo e vedono che ci sono degli uomini tre uomini almeno due davanti uno dietro con la ragazzetta e la donna questa bionda dice ma c'è la ragazza di prima la madre dove è finita e lì subito ho pensato ecco in una società del genere no ma anche anche nella nostra società solo che nella nostra società la legge reprime certi comportamenti ma noi pensiamo che il ladro il rapinatore o comunque la persona cattiva tra virgolette cerchi solo dei beni no il ladro ruba dei preziosi ruba qualcosa che gli è utile che può rivendere ruba dei soldi sì è vero ma la cosa più preziosa è la vita stessa è l'essere umano stesso è la persona e la persona può essere utile in molti modi signori miei per motivi sessuali il primo che mi viene in mente quello che vediamo qui è palese no hanno ucciso la madre che c'è una certa età e si sono tenuti la figlia per divertirsi ma la persona è utile perché perché la puoi schiavizzare per fare un altro esempio tu da quella persona vuoi il suo lavoro o magari vuoi anche solo poterla maltrattare puoi divertirti maltrattandola ma di solito un punto di vista puramente economico no questi economisti del menga fanno molti ragionamenti in cui non tengono conto delle depravazioni ma ragionano solo in termini numerici di risorse benissimo infatti la società schiavile o schiavistica o schiavista chiamatela come preferite è una forma di economia né più né meno una forma di economia che è andata avanti per gran parte della storia umana la più parte della storia umana noi ci scandalizziamo a pensarlo ma se l'uomo ha rinunciato l'uomo intendo la società umana ha rinunciato alla schiavitù e perché se l'ha potuto permettere perché altrimenti c'erano ancora gli schiavi e non parlo degli schiavi neri nelle piantagioni di cotone che noi va subito lì l'immaginario no no gli schiavi c'erano anche nell'antichità classica che soprattutto prigionieri di guerra o comunque quelli della città vicina che veniva conquistata e soprattutto donne e bambini diventavano schiavi ma non è una cosa di duemila 2500 o 5000 anni fa molto recente le spedizioni barbaresche si facevano fino al 1700 c'è stata una guerra non la conoscerete nessuno immagino tra la marina degli stati uniti d'america e gli stati barbareschi del nord africa il nord africa non è sempre stato colonizzato dalla francia c'erano gli stati barbareschi si chiamavano andatevelo a vedere su wikipedia adesso sto facendo una recensione di una serie televisiva non faccio una lezione di storia ma è per dire che da che mondo è mondo da che tempo è tempo il bene più prezioso è sempre stato l'uomo il lavoro umano quello che ti può dare e non non parliamo di cose ancora più schifose come ad esempio il traffico di organi non credo di dire cioè dico cose che fanno rabbrividire ma che ci sono è inutile nascondere la testa sotto la sabbia pensando che cioè chi lo fa è veramente un pazzo o è uno che buon per lui se lo può permettere di ignorare tutto vive nella bambagia ma è anche una persona che ignora purtroppo in un contesto del genere no di apocalisse da qualsiasi motivo sia causato o fantasioso o tecnologico scientifico alieni zombie epidemia globale che distrugge le società crisi finanziaria totale che ne so guerra guerra mondiale che dissolve le strutture organizzate statuali qualsiasi cosa qualsiasi evento che comporta la fine della legge fa emergere la legge del più forte la legge della giungla tutto lì può non piacere ma è sicuramente credo che a pochi piacerebbe quest'idea ma cioè è più comune di quanto si pensi quando voi vi trovate in una via pubblica e ci sono degli energumeni o anche a casa vostra che rientrano degli energumeni in quel momento voi dite io sono protetto dalla legge se sei protetto dalla legge che è astratta ma in quel momento e fin tanto che dura la loro permanenza lì senza che nessuno se ne accorge nel mentre che ti aggrediscono che ti colpiscono che fanno i loro porci comodi la legge non c'è non esiste più loro la stanno violando ma anche qui su black summer tanto per fare stiamo parlando di questo chiaramente è una violazione continua di tutte le leggi ma non c'è una forza pubblica o privata che sia che la che cerca di farla rispettare se non c'è la forza se non c'è la deterrenza la legge è un pezzo di carta o semplice parola che non ferma nessuno quindi una situazione di apocalisse di senza legge si viene a creare malauguratamente purtroppo anche nella via pubblica in cui venite aggrediti o qualcuno viene aggredito o nella casa in cui si subisce un'irruzione per rapina per estorsione per qualsiasi cosa altra cosa per cui è utile l'essere umano l'estorsione che cos'è l'estorsione sfruttare il lavoro altrui il tempo altrui per avere delle risorse tu lavori tu mi dai quello che hai ottenuto perché io te lo impongo te lo impongo con la minaccia con le lesioni fisiche se necessario ecco questo è il discorso quindi quando pensiamo ai furti non è solo il discorso dei materiali che poi materiali chi è che è interessato a non lo so un diamante grezzo cosa ci fai con un diamante grezzo ammettiamo che tu non ti taglierebbero le mani però va in sudafrica in qualche minera e riesce ad appropriarti di un diamante grezzo cosa ci fai lo usi come sopra mobile credo proprio tu questo diamante grezzo se vuoi tenerlo vuoi tenere per te ti serve il lavoro di qualcuno che lo lavori questo diamante grezzo lo faccia diventare un diamante finito lavorato di pregio una pietra preziosa e quindi quello acquista valore dopo essere stato lavorato ancora se tu invece lo vuoi vendere ti serve qualcuno magari un intermediario che lo venda qualcun altro che abbia del denaro e questo ha del denaro per motivi vari perché lavora perché l'ha ereditato comunque ce l'ha e che te lo trasferisce a te ma comunque le risorse sono il risultato di rapporti umani nessun pasto è gratis mi spiego cioè le uniche cose gratis che comunque vi costano un minimo di lavoro anche per voi è andare fuori e raccogliere la mela dall'albero ma anche quello costa un lavoro perché devi comunque faticare a fare l'opera di raccoglitore e se tu sei uno stronzo che dici no io non voglio faticare c'è quello lì che lo può fare per me io gli do un paio di pugni in faccia così capisce l'antifona e gli dico raccogli le mele per me tu te ne tieni una perché comunque devi sopravvivere devi lavorare e mi dai il resto è così che è nata la cosa signori miei e continua tuttora queste serie apocalittiche ci mettono di fronte a questa situazione ovviamente molto più elaborata ma noi dobbiamo pensare che può ricrearsi tranquillamente e si crea continuamente anche nelle nostre società che non sono soggette ad apocalisse alieni zombie o quello che volete voi ecco mi premeva fare questa precisazione che con la serie in sé per sé non c'entra però con la sociologia che sta dietro a queste serie a mio parere sì e l'ultimo episodio il terzo si svolge dentro una scuola e qui raggiungiamo forse il non plus ultra perlomeno per questi tre episodi che ho visto io quindi poca roba la scuola e già ci dice tutto innanzitutto c'è la corrente elettrica questa è una cosa che è un po strana no le luci sono tutte accese ci sono accesi dei macchinari insomma la corrente c'è comunque questo è solo magari per dare alle ambientazioni così maggiore visibilità almeno per il momento d'altronde anche se smettessero di ricevere qualsiasi tipo di manutenzione soprattutto le centrali nucleari continuerebbero a produrre energia elettrica per mesi prima di spegnersi automaticamente o peggio e andare diciamo in infusione del nocciolo e lo stesso dicasi per centrali idroelettriche continuerebbero a produrre per mesi e mesi prima che succeda qualcosa che le blocchi cioè tendenzialmente potrebbero produrre elettricità in per sempre ma per sempre è una cosa che non esiste per l'uomo il per sempre ma diciamo per un tempo indefinito nella realtà si bloccherebbero dopo qualche mese perché non avrebbero manutenzione anche le centrali a carbone o termo elettriche a olio gas andrebbero comunque avanti per un po per molto meno ma intanto che durerebbero le scorte di combustibile sicuramente non mesi comunque comunque in questa scuola vediamo forse una cosa che dà un po un senso di orrore quasi da film dell'orrore anche se non paranormale e cioè quei bambini pazzi quelle crudeltà di cui sembrano essere capaci così capaci bambini e meno capaci gli adulti cioè gli adulti che ne sono capaci ci sono ma sono grazie a dio pochi sono anche quelli che magari li hanno in mente ma non le compiono sono comunque messi ai margini dalla società presi incapaci di nuocere quelli che le compiono vengono etichettati come serial killer come malati mentali i bambini spesso o perlomeno c'è questo immaginario soprattutto nei film ma insomma ci sono anche i casi di cronaca che la loro inconsapevolezza li porta a compiere veri propri atti di crudeltà verso loro stessi verso gli animali sappiamo bene purtroppo ma potendo anche verso gli adulti potendo anche verso gli adulti non lo fanno perché hanno paura perché fisicamente non possono contrastarli in questo caso però lo fanno perché sono tanti perché non c'è legge non hanno paura hanno delle armi a molte improvvisate coltelli che hanno legato come delle lance hanno una pistola in questo episodio in questo episodio mi è anche venuto in mente l'episodio di star trek miri voi direte che c'entra c'entra su miri la nave del capitano kirk enterprise raggiunge un pianeta che in tutto e per tutto uguale alla terra ovviamente non è possibile altamente improbabile che la tettonica delle zolle insomma la conformazione sia così però prendiamolo per buono solo ovviamente solo per creare in realtà non aveva senso creare un pianeta identico alla terra ma era solo per dare nell'apertura quel senso di stupore che poi avrebbe portato lo spettatore a chiedersi ma è la terra questa in questa terra che non è la terra è un altro pianeta il tempo si è diciamo cioè la civiltà è terminata negli anni sessanta questo perché perché la serie televisiva di star trek originale è degli anni sessanta quindi non potevano andare oltre in maniera cioè non è tanto un fatto di di non andare oltre perché altrimenti non sarebbe credibile ma è per rendere al pubblico cui è rivolto e una serie televisiva è rivolta al pubblico che la vede in ante che lo vede per la prima volta non a chi lo vedrà dopo 20 30 40 50 o 100 anni era rivolto al pubblico degli anni sessanta quindi gli presentavano il mondo degli anni sessanta in cui la civiltà era finita perché era stato inventato un vaccino che doveva rendere le persone immortali invece aveva sterminato tutti 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 tranne i bambini i bambini e questa cosa era avvenuta molti secoli prima in pratica era avvenuta tre secoli prima perché la serie di star trek cioè erano collegate le due cose no la serie di star trek ambientata nel 2000 e nel ventitresimo secolo però prodotta nel ventesimo ecco miri pianeta di miri si era affermato nel ventesimo secolo ma i secoli erano andati avanti come sulla terra i bambini non erano stati uccisi ma erano rimasti bambini con una crescita molto rallentata e appena raggiungevano la pubertà per un fatto che dicevano degli ormoni appena diventavano adulti morivano come gli adulti erano morti secoli prima e si erano creati una società loro bambinesca violenta crudele ma anche ingenua e lo stesso molto più in piccolo hanno creato questi bambini nel terzo episodio di black summer dentro i bagni delle scuole ci sono dei cadaveri di bambini uccisi da loro evidentemente si vedono a malapena ma si vede che sono stati sui gozzati e infatti questi bambini a parte uno il capo che ha la pistola hanno tutti dei coltelli legati su quelle che sembrano delle aste da la pigliardo o comunque dei bastoni tengono aperta la porta con un cuneo per fare entrare dei malcapitati per poi derubarli di tutto quello che hanno e di ucciderli ed è in questo episodio e in questo contesto che muore raya nel muto che vi ho raccontato riescono a salvarsi poi ripeto questo a me sembra che muoia però magari o è un altro visto male riescono a salvarsi solo il nero e la bionda aiutati da un tizio che sembra una specie di custode gli apre la porta perché i bambini l'avevano chiusi dentro camminavano correvano facevano delle apparizioni per cercare sapete di indurli a col pietismo ma andiamoli a prendere sono solo dei bambini bisogna salvarli invece gli stavano fregando per condurli dove volevano loro e rubargli la roba e saranno organizzati bene addirittura avevano messo delle reti così quando ryan che uccidono i bambini il più grande il più il capo dalla pistola a una una bambina mi sembra una femmina comunque più piccolo piccola e dice se si muove sparagli lui siccome non sentiva appena gli hanno tolto lo straccio in testa che per coprire gli occhi aveva cominciato a camminare questa gli ha sparato ovviamente diventato zombie poi a rincorso i bambini sono fuggiti in zone protette siano organizzati in questo modo ecco qualcosa di simile dicevo su miri accade c'è un parallelo evidente e un certo punto aggrediscono kirk il grande kirk l'eroe viene attaccato da questo nuvolo di bambini e ne esce ferito guardate l'episodio se avete voglia ne esce ferito con sangue alla bocca maglia strappata anche i bambini possono colpire gli adulti se ne hanno la possibilità come in questi casi lei la donna tutta preoccupata lui l'avrebbe gli avrebbe sparato sarà criminale tutto quello che però gli avrebbe sparato ed avrebbe fatto bene perché in quel momento era l'unica cosa che avrebbero potuto fare avevano già ucciso due cioè ripeto questo probabilmente è morto ma non so se è lui se lui si è salvato per il rotto della cuffia ma sicuramente hanno sparato ucciso al muto ryan e volevano uccidere anche loro questo è un aspetto che ad esempio the walking dead e non ha mai affrontato nel comportamento della donna c'è molto di quel familismo che studi sociologici hanno attribuito all'italia ma guardate che il familismo negli stati uniti è pazzesco quante volte avete sentito nelle serie televisive devo proteggere my family la mia famiglia i miei figli i bambini sempre quella dicono sempre quella e secondo me questa cosa è spia di un grave anche pericolo per la società americana che loro avvertono perché significa che la loro società è pronta ad implodere in microcellule ognuna egoistica che non ha nessun rispetto per il bene generale una volta che crollasse lo stato federale e gli stati nazionali diciamo gli stati locali l'alaska washington texas alabama georgia california e compagnia cantante rimarrebbero i gruppi piccoli le famiglie o al massimo i gruppi d'amici ma soprattutto le famiglie questa ossessione per my family my children i miei figli i bambini e abbiamo visto che nelle serie televisive spesso fanno dei tentativi soprattutto queste così estreme o comunque quando si creano anche non così estreme apocalittiche ma in cui ci sono situazioni in in cui lì c'è una estremizzazione di un contesto viene esplorato fin dove potrebbe arrivare il familismo cioè a commettere la cosa sbagliata uccidere un estraneo idealmente per salvare my family la mia famiglia o i miei figli o anche solo per dargli un vantaggio che io che la persona ritiene che potrebbe avere secondo me è questo che da una parte denunciano queste serie ma ne hanno anche timore nella società americana voi direte beh ma è così più o meno dappertutto sì però nel senso che lì mi sembra particolarmente accentuata la cosa e questa cosa renderebbe molto più difficile creare delle comunità tra estranei che siano comunque al di là ci sarebbe sempre quella diffidenza che poi quella che vediamo narrata in queste serie televisive in questi contesti che alla fine la narrazione è quella ecco è stata una recensione molto lunga me ne rendo conto e non è finita perché tre episodi su otto però se avete avuto pazienza di seguirmi io penso di avere fornito alcuni spunti sicuramente ve la consiglio caldamente se vi piacciono ovviamente questo tipo di serie televisive sull'argomento zombie o comunque fantascientifico barra fantasy se volete fatemi sapere chi l'ha vista chi è in procinto di vederla che cosa ne pensate se per voi invece non è un granché perché a me anche a livello di effetti speciali è sembrata buona ve lo dico sinceramente devo dire la verità superiore a The Walking Dead l'unica cosa forse a livello recitativo gli attori non sono ancora credibili al 100% magari come invece in serie più blasonate dove ci sono professionisti più capaci però secondo me si guarda bene insomma anche da quel livello da quel punto di vista lì ovviamente non possiamo pretendere l'Oscar però si fa guardare bene dai ecco vi invito allora alla visione se volete mettete un mi piace iscrivetevi e soprattutto fatemi sapere che ne pensate grazie per aver ascoltato e se ci sarà modo farò anche la parte successiva degli altri cinque episodi ciao a tutti